Alcuni comuni della provincia di Torino fanno rete per valorizzare il loro territorio con l'approccio sistemico della Blu Economy. Sono Airasca, Candiolo, Castagnole-Piemonte, None, Piovesi-Torinese, Piossasco, Scalenghe, Virle-Piemonte e Volvera. Se ne è parlato nel convegno Il Feudo dei Nove Merli nella Blu Economy piemontese, promosso al Castello di Piovesi dalla Consulta Europea. Il Castello di Piovesi, il Feudo dei Nove Merli, nove comuni si uniscono per fare rete e per fare sistema. Per parlare questa sera di bandi comunitari per ricercare delle risorse tenendo conto che certamente la crisi fa sì che si debbano trovare spazi e attività per costruire nuove progetti sui territori. per gestire un patrimonio artistico importante, per ricercare risorse, per valorizzare le ricchezze della terra, per ovviamente anche mantenere un patrimonio tipico dei comuni.